Siamo nella quarta edizione dei presepi artistici che quest'anno prevede anche i presepi di dimensioni più grandi insieme a quelli in miniatura e a quella sezione riservata alle scuole. Quest'anno la location è prestigiosa perché grazie all'amministrazione comunale possiamo suffruire di questa splendida sala del Palazzo di Città dove per tutti i giorni, per tutte le sere fino al 6 gennaio ci sarà l'esposizione di questi presepi. Presepi a cui hanno partecipato tantissimi artisti, artigiani, appassionati, scolaresche, non solo della città di Castrovillari ma anche dei dintorni. Come funziona? Io come ogni anno invito tutto il pubblico a votare perché oltre alla giuria tecnica che è composta da 5 esperti i cui nomi sono Angela Miceli, Raffaele Iazzolino, Tilde Nocera, Francesco Caruso e Francesco Senise. Ci sarà anche il voto del pubblico. Il pubblico potrà votare, potrà esprimere la propria preferenza tutte le sere. Quindi venite a visitare i nostri presepi e che venga il migliore, venga il più bello, venga il più creativo, il più originale. Grazie.